Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, oggi è la festa dei Santi Cirillo e Metodio. Il Papa San Giovanni Paolo II, Papa Slavo, proclamò i Santi Cirillo e Metodio compadroni d'Europa, affiancandoli a San Benedetto, e ciò a significare l'unità e le comuni origini cristiane di tutto il continente europeo. I Santi Cirillo e Metodio meritano pienamente questo titolo che va ad aggiungersi ad un altro, ben più antico, quello di Apostoli degli Slavi. Furono infatti loro, con una coraggiosa opera missionaria, a evangelizzare i popo di Slavi. I due fratelli, figli di un alto funzionario dell'impero orientale, per evangelizzare tradussero in segni grafici la lingua slava, allora priva di alfabeto. I caratteri disegnati dai due Santi si chiamano ancora oggi Cirillici, dal nome di uno dei due fratelli che più dell'altro vi lavorò. I Santi Cirillo e Metodio trascrissero poi in quei caratteri la Bibbia, il messale e il rituale liturgico, che furono elementi importanti di unità linguistica e culturale per il mondo slavo. I due Santi fratelli avevano caratteri abbastanza diversi. Metodio, il maggiore, che aveva preso dal padre, era amministratore avveduto e aveva volontà tenace. «È inutile che vi ostiniate con me», ebbe a dire un giorno ai suoi oppositori, «cozzerete contro il ferro». Per queste sue capacità gli venne assegnato il governo di una colonia slava in Macedonia. Cirillo, che in gioventù si chiamava Costantino, alla tormentata vita politica preferiva la quiete dello studio e le tranquille giornate alla corte di Costantinopoli, dove fu per qualche tempo paggio dell'imperatore. Ultimati gli studi alla scuola di Fozio, intraprese la carriera di insegnante. Ma per nessuno dei due fratelli quella intrapresa doveva essere la strada che la provvidenza aveva loro tracciato. Ritrovatisi, dopo qualche tempo, si accorsero che i loro diversi caratteri si incontravano nel comune desiderio di dedicarsi alla vita religiosa. Desiderio che realizzarono diventando sacerdoti e offrendo la loro disponibilità all'attività missionaria. Alla fine dell'862 si recarono in missione tra i Cazzari e di ritorno passarono per la Crimea, dove trovarono le reliquie del Papa San Clemente Romano, il quale sul finire del primo secolo era stato diesiliato ed era morto. I due santi fratelli riportarono le reliquie a Roma. In seguito, su richiesta del principe di Moravia, l'imperatore di Costantinopoli inviò i due fratelli tradislavi in Moravia, presso i quali altri missionari latini avevano miseramente fallito. Cirillo e Metodio accettarono l'invito e, nell'analizzare i motivi degli insuccessi di chi li aveva preceduti, colsero l'importanza, anzi l'insostituibilità di uno strumento linguistico con il quale trascrivere il messaggio cristiano. Maturarono e realizzarono così l'idea di un alfabeto per la lingua slava che ne era sprovvista. Quando si presentarono al popolo della Moravia con l'inatteso regalo dell'alfabeto cirillico, trovarono le porte spalancate e molto entusiasmo. La traduzione della Bibbia, del messale e del rituale liturgico venne sull'onda di quell'entusiasmo. La novità inaudita nella Chiesa, dove tutti i riti si celebravano rigorosamente in latino o in greco o in ebraico, procurò loro qualche guaio. Chiamati a Roma, dovettero rendere conto del loro operato e difendersi dal sospetto di eresia e di scisma. Ma il papa Adriano II non solo approvò e lodò il loro sforzo, ma chiese di celebrare in sua presenza i santi misteri in lingua slava. A Roma, purtroppo, Cirillo, spossato dalla fatica missionaria, morì. Era il 14 di febbraio dell'anno 869 e fu sepolto nella basilica di San Clemente, presso il Colosseo, San Clemente il martire di cui egli stesso aveva portato a Roma dalla Crimea le reliquie. Invece, San Metodio, ordinato da Adriano II, vescovo della Pannonia, ritornò fra gli slavi a continuare la sua opera di evangelizzatore e di organizzatore della Chiesa. Gli ultimi anni di vita di San Metodio furono angustiati dalle petulanti accuse di concedere troppo spazio alla mentalità e alla lingua dei popoli slavi. A causa di quelle ottuse incomprensioni, Metodio dovette subire la vergogna di una quasi prigionia in zone deserte e fredde della regione slava. Però, quando morì, a 75 anni d'età, ebbe il più bel riconoscimento della sua attività. I molti vescovi accorsi a rendere omaggio alle sue spoglie ufficiarono il rito funebre in latino, in greco e in slavo. E ora, cari fratelli e sorelle, terminiamo con una preghiera in onore dei Santi Cirillo e Metodio. O Santi Cirillo e Metodio, che con sincero spirito di fraternità avete avvicinato i popoli diversi per portare a tutti il messaggio di amore universale predicato da Cristo. Fate che i popoli del continente europeo, consapevoli del loro comune patrimonio, riscoprano le loro radici cristiane e testimonino con coerenza la fede. Siano lodati Gesù e Maria. Siano lodati Gesù e Maria.